Ben trovati la TG della mobilità, riprende la manutenzione sulla rete tramviaria questa settimana, lavori sui binari in via delle belle arti e in via Marmorata, da domani a giovedì bus a navetta sull'intero percorso della linea 2 sulla linea 19, bus a posto dei tram tra Valle Giulia e Piazza Risorgimento, per i lavori in via Marmorata, giovedì e venerdì bus a navetta sulla linea 3 tra Piazzale Ostiense e la stazione di Trastevere. Le altre notizie di nuovo attivi da oggi i varchi di ZTL in centro. Le ZTL osserveranno i consueti orari di chiusura, tutti i dettagli su giorni, orari e tipologia di permessi sul sito romamobilita.it.